Allora, come dicevo prima, Anna, che gestisci tu questa scuola, giusto? Scusate, la voce è partita. Voglio che veramente un grande applauso che se ne andate... No, ha chiesto, se no, sta con me. Però facciamo tanto casino, perché veramente trovare una collaborazione così veloce, senza problemi, come ha fatto Anna, che ha detto subito di sì a Castellini-Serrano. Quindi, un grande applauso a questa ragazza che sono stati da scuola! Grazie! Tante di cappello! Non sono politici e fanno questo! Pittsburgh, grazie a Risse! S'è fatta mezzanotte, ma notte scura, scura. S'è fatta mezzanotte, dorme la luna. S'è fatta mezzanotte, ed era pieno giorno. Un colpo mi si è spenta, la luce intorno. S'è fatta mezzanotte, ed io non sai perché. 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 S'è fatta mezzanotte. S'è fatta mezzanotte, ed io non sai perché. 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 S'è fatta mezzanotte. Sì! Non correre, non correre, va aiutare E' sono sperato, ma c'è in particolare Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.